La 208 GTI 30 è una serie limitata per festeggiare i 30 anni della 205 GTI. Si è posto l'accento sul comportamento dinamico e sull'aspetto sportivo grazie a una livrea bimateriale, nero, testurizzato opaco e rosso brillante GTI delimitata da un taglio netto. La trasformazione permette di realizzare operazioni che non possono essere industrializzate per una serie limitata come questa. Occorrono 26 ore di trasformazione. 14 persone intervengono sulla vettura suddivise in quattro fasi. Il controllo o progettazione è la prima fase della trasformazione. Prende in carico l'auto per creare un fascicolo che tiene traccia di tutte le singole trasformazioni effettuate sulla vettura. La meccanica rappresenta la seconda fase. Allarghiamo le carreggiate anteriori, sostituendo i triangoli inferiori delle sospensioni e le bielle dello sterzo. Allarghiamo anche le carreggiate posteriori, inserendo dei supporti. Sostituiamo l'impianto frenante di serie, le pinze e i dischi con uno più prestazionale. Infine montiamo i cerchi da 18 pollici nero opaco abbinati a pneumatici ad alte prestazioni. La meccanica è una tappa estremamente sensibile perché interveniamo su una serie di regolazioni di sicurezza che devono essere controllate una a una. Lo smontaggio interviene prima della verniciatura. Si smontano quegli elementi che ostacolano la fase di verniciatura del veicolo. La verniciatura è la tappa più complessa. In effetti il veicolo è riverniciato completamente. Prima si applica il nero testurizzato opaco, poi si traccia il taglio netto per ultimare la verniciatura e applicare il rosso brillante GTI. La posa del kit esterno della carrozzeria è l'ultima tappa della trasformazione. Si applicano i parafanghi allargati, le parti inferiori della carrozzeria, il diffusore posteriore, la calandra, i due fendinebbia e i baffi sulla vettura. Prima della consegna ogni auto è controllata singolarmente per garantire un livello di qualità ottimale. Effettuiamo un controllo dell'aspetto interno ed esterno, un controllo sotto la scocca e un test in pista per verificare il comportamento della vettura. Effettuiamo un controllo dell'aspetto interno, un controllo dell'aspetto interno.